Salve a tutti amici e ben trovati, sono il vostro Mediterraneo, eccoci qui per l'episodio di The Rupert Nelsa Esquatu, il DSD Will Not Change, oggi andiamo a fare un'altra sfida di Fome Arborist Nation, questa attezza ci dedicheremo all'Arborist Nation e a rilasciare un'azione che sta in Europa. E' un fonte questo che spero che vi piaccia, spero che vigarvi questo modo di fare le spiriti, secondo me è un gioco che si finisce in tutte le salse, ma la sfida di rilasciare un'azione, liberarsi e essere più forte della propria ex vassallo parola, diciamo, e reclissare il mio punto a essere una delle grandi potenze mondiali, è una sfida che a me piace. Molto tempo ci vuole fare perché non ci vanno per riuscire a espandersi, soprattutto in regioni in cui il live è molto alto e c'è il rischio di alti, di molte collezioni, ma spero davvero che vi piaccia questo modo. Comunque, iniziamo l'episodio di oggi e per iniziarvi, cosa mi ricerai, commentare e condividere, sfruttare il canale, vi ricordo anche a visitarvi, seguimi sui sociali come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul lavoro, goderevi altri contenuti, muteremo offerti e partecipare, ma attivate il canale da Comunicotir, sondaggi, richieste, discussioni, in ultimi con la diversità di abbonarmi per YouTube, farai il maggior pannello sui tiri, vantaggi, alcuni badge e emoji, video che potete anche prima, anche se hai di cari abbonati e quant'altro. Bene, ragazzi, ci vediamo il saluto di oggi, sono Saspira di oggi, con il bando delle ciance, io sparisco, e che il viaggio ha più inizio. Bene, oggi partiremo con un'azione, sta in Europa, che sta in Italia e sta nel nord Italia, e questa nazione sarà Parma. Parma, la donosissima nel suo bel parmigiano reggiano, ma oggi vorremmo rilasciare questa piccola contea, provando a liberarci, Eclistare Milano, quindi conquistare Milano, nel mondo che Milano non esista più, e infine, come ho detto, puntare alla grande potenza. Vediamo un po' cosa ci darà Parma, come Inter, come Mission 3, penso che Mission 3 sia il classico, però magari, chi lo sa, magari, c'è qualcosa di speciale a Parma? Lo spero. Potremmo anche, un giorno, fare anche Modena, che sta in Italia, ed è molto semplice, è fissare, diciamo, Ferrara. E sono due province, quindi, diventano una provincia, Ferrara, a fare dei facilmente distruttivi, ma... Facciamo stare questo, pensiamo all'oggi, all'ora. Come sempre, quando ci rilasciamo, da nostro assallo, a differenza di altre nazioni che sono sotto il dominio di altre potenze, aveva una russa che dovrebbe dare a 5-10 anni, mi sembra 10, Milano che è stato a quanto potente, militarmente, sia in realtà, ma anche in gaming. Questa è qui, ha delle idee, a quanto del Sandri, come in particolare abiti, poi nasce un po' di modifari, cioè, mi cerca di distruggire Milano prima che riesca a formare i suoi eserciti, a formare... a diventare la potenza che vorrebbe diventare. Penso che, se riusciamo già a rilasciare Parma, e poi a fare la prima guerra, per toglierti, magari, questa provincia è qui, e anche Novara, non sarà a fare che, alla fine, hanno un level abbastanza alto, ma ci vorrei, vabbè ragazzi, ci hanno stato questo, adesso andiamo subito a formare la nostra cara Parma. Dove si è? Eh, si è che a stai, come faccio un release nation, eccola qui, Parma. Play as the release subject, yes sir, cultura romagnola e cattolica. Ed eccoci qui, ragazzi, siamo Parma. Direi che è anche un bello standard, con i G francesi o toscani, penso più francesi, che anche quei toscani, infatti, sono di... che riferimento al G francese, c'è un collegamento, non mi ricordo in questo momento. Parma, che qui è una buona città, è sulle colline, quindi come difensiva non dovrebbe essere malvagia. Andiamo a conoscere la cara Parma, la contea, che fa parte dell'impero, e penso che ci resteremo, quindi, cercando di allearci anche con l'Austria, per resistere ai nemici che stanno qui, nell'Italia del nord, nell'Italia del sud, e anche qui sotto, cioè, al sud del po', diciamo, qui nel nostro, sotto di noi. Ma andiamo a conoscere, appunto, le idee. Ha le idee italiane, che sono 10, 3 deficiencies, 2, il proprio influence, e in fila, quando blocchiamo tutte le idee sbloccabili, avevano una legittimazione annuale di più uno. Rispetto a di venire a Parma, sinceramente, non avevano qualche idea romagnola, emiliana, ci stava. Comunque, abbiamo poi le idee italiane, abbiamo Italia Ronicense, Ideacost, meno 5%, Italy Condottieri, Mercenary Maintenance, meno 15%, Italia Ristocracy, For Race, Per Detection, più 20%, Trace Italian, che c'era Ford Defense, più 5, e Gerson Size, più 10, questo sarebbe stato un buon avello primo per difenderci da Milano, High Renaissance Art e Architecture, prestigio più 1 annualmente, Italia Diplomacy, 10% di Spanetwork Construction, Diplomacy Relation, più 1, e infine, la Commedia dell'Arte, che ci dà stabili costi di fare, quello di 10%. Diciamo che sono delle idee un po' penose, perché non c'è un'idea militare, non c'è un'idea dei romanzi che c'è di avere più relazioni, o dei vantaggi economici, inizialmente no, cioè c'è questa che, la prima è ovviamente molto buona, che lo scontro delle idee è sempre una cosa molto buona, però capite che se io inizio io e cerco di liberarmi, anche i mercenari non so se riuscirei a pagarli, se non una piccola regione, ma comunque ragazzi, questo è quanto. La strategia con Milano dura, fino a 4 anni, quindi 5 anni, 5 non 10, e andiamo a fare, andiamo a che Milano sia lo stesso, infatti, tipico delle nazioni rilasciate in Italia, ma adesso andiamo a occuparci dei States, come sempre quando c'è una nazione, il bello è che il 100% è tutto nostro, poi se non è una provincia, è una cosa che sia tutto del signore, ma adesso andiamo a fare, mettere i vari privilegi, e vediamo poi quale saranno. Ok, per il momento è un tema molto light, perché non ho messo molti dei privilegi, per esempio, il poder elevato di nobiltà, o i debiti con i burghers, o per entrambi, per tutte e tre, gli States hanno messo i privilegi che ci dava, lo sconto al Visor, che c'è però più stabilità, perché in un momento io non farò niente, sono 5 anni di tregua, diciamo che ci prepareremo, ma comunque andiamo a vedere cosa dobbiamo fare, siamo messi i soldi di 3 punti male, in 2 e 3, i States, poi, dal Credo, che è quello che ha i, diciamo, i privilegi più interessanti per il momento, come inizio, abbiamo Diplomas Religions, che ci daranno sconcio, un miglioramento con le relazioni diplomatiche, utile per fare alleanze, e infine abbiamo Iclic Education, che ci può aiutare per la crescita del governo, a posto, come fa anche quello del governo, però prima di non fare una dieta, non ho messo l'invento di Elever, perché quando metti l'invento di Elever, è possibile che ci sia una richiesta della novità, di avere Elever al massimo, ecco come facciamo per 100, che se io avessi avuto l'invento di Elever, non sarebbe stato tipo 11.000, ma 10.000 per esempio così, rimane 11.000, anche se è già da tempo e tanto, questo ci darà un 4Defense, più 2 ma scontato, un vario, questo ci darebbe, per Influence più 1, per fino al 15 anni, ok, e questo è Bass Production, palma più 7, però non ci dà alcun soldo, e poi Influence, va, però che devo fare, ho pieno del palpato, questo è buono perché, potrebbe essere un palpato che ci sostenga, diciamo, quindi andiamo a fare, Improve Relations, eccoci qua, questo non ci conosce, che è ancora il gioco è partito, normale, andiamo a fare anche i Saisland, hanno solo i 300 di Stats, ma inizio già a pressarli, tanti, abbiamo anche vedo molti moves, quindi bene, io sto con questi bonus, molto bene, i progetti sto migliorando, bisogna solo fare, riforma di governo, e andiamo a prenderci l'Autocracy, o il Fade of Novitin, no, perché ci dà la Fade of Novitin, Influence più 5, è inconformata che non abbiamo, questo no, ok, Autocracy sia, GST Fade of Novitin, 10%, Ash Treatment Cost, 11%, Infine, il Best of Price of Efficiency, più 10% a 100%, bene, abbiamo un link di 79 Ducati, pochi, e abbiamo, mi interna in mezzo, mi interna più 4, esatto, e siamo presso, niente, niente, lì, mi interna a fare, mettiamo play, iniziamo a mettere a 3, e andiamo a vedere i rivali, mi interna a fare, con i propensi, che ci dovrebbero, penso, mi interna a fare, la sorzione come un alleato, sempre perfetto, ma non penso che tu era, allora, i rivali c'è Venezia, ovviamente, ma c'è poi, come nemici, quindi che l'ha scelto Provenza, Austria, e Svizzera, in questo momento, Venezia, non ci inconosce, ok, bello, già inizio con, un soprano, che ci dà, un bel, un bel bonus, National S2, grande, contro la Sanna, tu si che sei un grande, qua c'è un pensiero, con l'Income, che non ci interessa, qua c'è un advisor, un show da S2, per 100, sapete che è quasi quasi, quasi quasi, un advisor inizialmente, National Attacks, ci cosa 50, dai, su, che si paga anche l'intestazione, e mettiamo, ovviamente, il focus sul, sul militare, che vuole andare avanti, militarmente, essere più forti di loro, poi, oltre a questo, Milano, sempre, Venezia, ah, c'ha Venezia, e Savoia, l'Austria non c'è più, i nemici, quindi Savoia, e Venezia, che c'ha, adesso oggi c'ha 11 mila truppe, Venezia da 18 mila, i suoi inizi, sono con Venezia, milioni di rapporti, ci daranno anche un cuoricino, ah no, solo noi, avesse, attitude, diciamo, bene, video su Mr. Power, o Prestige, ah, Mr. Power, prima che abbiamo messo, l'avviso di un punto in più, il nostro sovrano, cos'è, un 250, pessimo, nessuno, arrivo neanche con, il sovrano, tra 3, 5 anni, ok, e, vediamo un po' chi, già potrebbe, garantirci, il sovrano di Venezia, la Svizzera, Savoia, mezza, molto distante, perché, ok, 100%, cioè, neutrali, come, cioè, se i rivali, ah, non c'è più, bene, quindi, Provenza e Svizzera, diciamo, quelli più impapabili, e la Savoia, quindi, togliamo solo Venezia, e non so Savoia, va, che è quella che ci, cioè, state bene, viste voi, se voi si accetterebbe, e, quindi, non so, Savoia, bene, Venezia, mi è deluso, perché Pisanzio, non Milano, perché, por qua, ok, abbiamo una idea, Antonio, che è molto buono, per esempio, abbiamo anche risolto i problemi, con il, il papato, ma non ci dà le ansie, perché non può, conquistare, conquistare, a Milano, questo sono, tu devi solo, aiutarmi, rich, non posso, rich, dice, non rich, come aspetta, ecco, il papato, è creato rich, Milan, cioè, non so se si è fatto, che non possa arrivare, perché è distante, o perché non possa, arrivare a conquistare, perché se non può arrivare, faccio, cioè, da Urbino, Venezia, di passare sicuro, cioè, non lo so, ma comunque, siamo venuti con Savoia, che già ci darebbe, il supporto, subito, Savoia, proprio già felicissima, la Svizzera, migliorando, e questo, arriviamo lì, Milano, questo, l'alleato, Sommersaluzzo, e Luca, dei piccoli alleati, e questo, a me, non mi dispiace, per niente, oltre a Savoia e Svizzera, che c'è, c'è Mantua, che poi è a meno 182, perché, meno 181, fruit attitude, trovo a Milan, meno 185, c'è un po' di Milano, ma se tu, mi supporti di dipendenza, vai contro Milano, tu, se insieme a me, e poi vediamo le migliori, avrei, di poter che ci mangiare i rapporti, o che c'è più reputazione, faremo un esercito, questi qua sono dei punti, in più, che ci daranno, per resistere, inizia la guerra delle due rose, in Inghilterra, un classico, mentre, la Francia, non fa guerra, quindi ha deciso di riasciare, all'Inghilterra tutto, oltre a tre anni, possibile, se c'è la tregua, ok, stavo lì di entrata, chi sarebbe l'altro, che ci darebbe, in questa guerra, Mantua, se non c'è qualcun altro, c'è tre leghe, però, difficile, più tre leghe, cinque, tu, poi, mantua una sette, direi meglio, Mantua, quando sa voi, metterci il cuoricino, ok, con la sbizzera, possiamo fare lo stesso, yes, si deve iniziare a dare il culo a tutti, e loro spero ci, ricambino, in qualche modo, saluce, che vuole Turino, saluce, a berlusoglio pure, scomunicato, che brutta, come papato che, scomunica, dov'è, il voto è papato, dentro di Savoia, così, del voto, senza senso, vabbè, aspettiamo un quanto ancora, siamo ai 48, ah, un anno, preciso, iniziamo già a fare, le nostre prime, troupe a questo punto, eh, ovviamente, solo, fanteria, uno, due, tre, e quattro, lo sono, 5.000, mmm, è lucco alleato, oh, non voglio perdere, amministrativi, perché può servirmi, contro, cioè, per, l'equilibrio, la, proprio prestigio, pure la, buona, porca paretta, a fondo, mi sa che devo, dare forza, il bonus, alla, borghessia, se mi vuole anche bene, per una, giova art, che ci dà, più 400, perfetto, perfetto, posso, mettere, come, durante l'uque, un po', con, non è, papastate, saluzzo, papastate, vento, no, no, ok, avremo, un problema con, la stabilità, ma, non se ne frega niente, allora, ragazzi, quando tutti due al massimo, aspettiamo ancora un po', mettiamo anche il bonus al morale, ci costa anche l'esercito, se non ne paghiamo meno, e abbiamo le claim, intorno a noi, bene, abbiamo 27, quindi abbiamo già spavuto 20, 6.2, Ducati, 6.2, Ducati, arriviamo dicembre, che in effetto, attacca dicembre, ma, dobbiamo fare, ok, si dimorano le nostre armate, cosa al massimo, declare war, conferma, conferma, ci siamo ragazzi, parte la guerra, subitamente, andiamo a mettere, perfetto, siamo da zero, qui, e passiamo pure, e, tutti sono in place, c'è anche Monferrato, da questa volta, Cinevra, molto, perché non ho fatto conto, che ci arriva, stradele Savoia, che ci aiutavano, ma noi, subito, su Luca, vediamo di, perfetto, distrutti, perfetto, provano distruggere, eserciti, per favore, lo stanno scappando, mi sa che sono scappato, entriamo a 4, per favore, eh sì, sono scappati, ecco il, saluzzo minato, e il trento, chi sono questi, ah, che è Monferrato, e Svizzera, si sono attaccati, perfetto, iniziamo subito, ad attaccare, e, tu Pavia, tu Milano, che sembra con una serie, questo Eduardo, in teoria, ma non ce la fa come uomini, e, Mr. Power, e, ok, mi piuttava, perfetto, non lo che sarà, cadrà, Saluzzo e Luca, avremo avuto alle fuori, poi rimane a Trento, e Milano, che stanno, non si è portata, noi qui, tutto con cui siamo, prima che arrivi, la Savoia, a reclamare, bene, 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 allora, non so come mai, di botto, Pavia e Cremione, noi, conquistate, si sono liberate, così, ma che succede, non c'è nessun esercito, di, eh, cioè, di Milano, che è venuta qui, come mai, non sto capendo, ah, scusami, questo non mi ha visto, controllo, vale, it's beginning, revert to me, I'm from the fort, ah, il fort di Comodi, mi ha vado di che, ci, eh, ci, tolgono, ma come è possibile, ma ho visto sta cosa, non c'ho, o ma non ci ho fatto caso, possibile, ed anche Pavia, e non mi ha seguito, assediare, lasciare gli eserci, per forza, se no, se le nostre alleate, fanno il loro lavoro, e tolgono di mezzo, i amicconi, di, di, di Milano, bah, mai visto questo, ok, direi che la guerra, è finita, con i carissimi, qui, che non si fanno il loro, e allora, io ho già provato una pace, una pace che sarà di, dura, per un nostro lato, per Savoia, ma che dovrebbe garantirci, libertà, poi Cremona, Pavia, e Novara, che si, non solo mi interessa, non è Milano, però intanto, andiamo a ridurre, di tanto l'influenza, eh, milanese, poi abbiamo chiesto, di, ridare indietro, Zurigo, e, Varma, ai, oh, per comoda, dare questa provincia indietro, alla Svizzera, non so se però, Varsfheim, no, dove è Zurigo, basta, tre, io, lascia in Milano, così poi mi apiglio io, o, facciamo così che i, Svizzera, non hanno più interessi, succomo, ma dai, leggiamoci tutto, se lo siamo felici, e, poi, ovviamente, soldi, non rompo alleanze con nessuno, sono tutte piccole, non lasciamo le queste che sono migliori, avremo un po' di, ah, no, è solo con Milano, prima ho visto che c'era Firenze, Saluzzo, Lucca, ma c'era solo Milano, bene, così, spunto, soldi, sendimand, ma non c'entra pochissimo, no, c'entrano 34 Ducati, non è male, Milano è già stata bella, che è bastonata, siamo indipendenti, e abbiamo anche tre nuove province, quindi andiamo a fare subricorre, ovviamente, aumenta la corruzione, noi la, combattiamo, e abbiamo anche, per poi, sodica, se anche, warrap tra, Saluzzo, Trento, Milano, e Lucca, sono già, sono già, sono già, che non sono male, poi, nemici, non so, vedremo, in questo momento, io sono come, al forward source limit, no, sono messo bene, ottimo, lo lasciamo qui, mi piace, mettere qua, Ficompa, in Novara, in questo momento, loro mi vogliono ancora bene, hanno il claim, fa meno 10, ma, e vogliono, Novara, solo Novara, non male, però, come siamo, le Firenze, che dovessi, contro l'omice, in realtà, non è una collezione, molto bene, questo vuol dire, che è la collezione, ecco, ah, qui è la collezione, perché è che vedo un po' tutto, non capisco, la collezione, deve essere solo Milano, ottimo, e vediamo, chi possiamo allearci, che non abbiamo, sì, Torino, e, Svizzera, in questo momento, per andarci con Mantua, faremo una di vassalizzare, chissà se sarà permesso, vassalizzare, ci hanno il cuore loro, e la vassalizzazione, e, ecco, mi compere, mi compere, member of Empire, per, ah, adesso, alleiamoci, così, non, non ci va, magari, con attaccare Mantua, così, abbiamo già anche Mantua, l'ultimo alleato, avrò anche un po' di colleghi, quindi, appuntando così, l'ultimo alleato, potrebbe essere, magari, o la Sassonia, che è un elettore, non so di male, c'è anche la poemia, ho visto, Bosnia, Muster, Colonia, Hanken, Dortmund, C'è anche Bisanzio, che ancora esiste, Selytson, grazie, Brittany, io direi, o Brittany, o Sassonia, o, vediamo, qualcosa che c'è qui, che ci vuole poco male, tipo Firenze, come non c'è, Ungheria, l'Ungheria, che entra con l'Austria, è un problema, magari, proprio l'Austria stessa, o un poco, Austria, carissima Austria, perché non volarti con noi, hanno il fatto di Torino in Empire, ah, perché ancora c'è, poi c'è l'Empire, ad occupare, e, la Sassonia, come è messa, è piccola, e la 5, la riporta, poi c'è la Brittany, 3.000 di meno, l'hanno abbastonata, mi sa, perché è in guerra con Genova, se ne dico, ma c'è la Bohemia, che è uscita, cara Bohemia, e, l'Ungheria, forse, avrebbe esso un bollato, di quelli grossi da tenere, Venezia, vendeci, doverà, noi diamo il cuore, e la Oster, era buono, più di l'Ungheria, però, stavolta, andiamo su Ungheria, miglior rapporti con lei, Royal Merge, ce lo dai? No, Royal Tc, penso, eh sì, Firenze, dovete un attimo, ok, qua, ah, perché, non la caga, Royal Merge, assolutamente, poi, cara Svizzera, come siamo messi, come dico, non ci sta, qui blocchiamo, Rule of Prince, perché abbiamo, non stavo, abbiamo due alleati, questo ci direbbe, legito in sé, stabilità, che non è male, non è male, ragazzi, non è niente male, rivale, ho avventato subito, Milano, Mantua, no, Lucro, questo è un rivale, ma, c'è Frenze, la stai sorgendo, metto un Luc, e Ferrara, Ferrara con chi è, scusami, Ferrara con chi è, alleata, con Trento, eh no, Ferrara, l'Imiro Magna, deve essere tutta nostra, bisogna già Parma, ci manca Modena, Bologna, Ferrara, per essere Milano Magna, l'Impero ancora è qui, che rompe le scade, maledetto impero, ma che vuoi, abbiamo ancora acclaim, spazi per tutte le parti, Sì Potrò fare anche quella Ferrara Quasi quasi A questo punto Il prossimo obiettivo Là c'è un foto all'altro come l'Ungheria per esempio Perché se abbiamo un lato forte Qui c'è solo un paio Ma sono tutti piccoli Cioè Everypaden e Pisanzi Io non voglio Non ho aspirazione a diventare imparato Sennò mi allerei con tutti i pari Elettori Devi farmi eleggere Non possiamo avere Parma come Imperatore Mentre tra le grandi potenze Adesso noi siamo piccoletti Ma non sono lì Oddio Pisanzio Ah Venezia fa cura a Pisanzi Maledetti Pergognatevi L'ho fatto una volta farlo di nuovo Comunque Abbiamo anche un po' di soldi da commercio Da Venezia tiriamo ben 0.63 Genova abbiamo più influenza Sappiamo che 4% non c'è più Quindi a questo punto togliamo Genova E dovremmo andare E da nessuna parte Se fosse a Genova Lì almeno togliamo qualcosa Togliamo 0.12 a meno Dai Stavoglio ci vuole rompere No Stavoglio Non fare così Dai Su Si carina Si gentile Improve relation Per il momento Dai Mignori rapporti Chiamiamo la dieta I pochi sono peggiori Nel nostro Porghese Production A Parma E M.M.Garb Questo Ma c'è Production M.M.Garb Parma È diventata una grandissima Cittadina Ok Shadow Kingdom Vediamo un po' che succede Chi ha lasciato l'impero Penso che la ferra rimarrà No la ferra è andata È rimasta Genova Siena Io potrei prestigio per rimanere l'impero O posso dire Ma chissene frega Facciamo una cosa Vediamo come va Tolli Vedete dalla collezione non c'è più che una volta Come vedete ci sono mia in Genova Quindi togliamo l'Austria per il momento Ritorno di pneumatico Sendimand Perfetto 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 E a questo punto Ciao Austria Non mi sono sottomesso Giusto? No Sono il nostro foro Perfetto L'Austria lo accederà tantissimo Ma chi se ne frega Qui Ci manca un rivale Se l'Austria è ritornato Cioè l'Austria va e ritorna Genova dovrebbe essere un perfetto rivale Perché Spano già ancora Ma mi sa che non conviene Nel frattempo Nel frattempo però Andiamo a sistemare subito Le nostre armate Togli Togli Facciamo cosminori Abbracciamo il Rinascimento Ci costa tanto Ma ne vale la pena Vedete qui sono Andate le 5 Perfetto E a questo punto Ragazzi Prossimo passo Nel 70 Attaccare Mina Perché non voglio fare più guerra Perché non voglio avere La crescione special Anche se solamente È molto bassa Cioè di solito Mi zica Faccio una guerra Finisce molto La vera che qui Ho solo due territori A per volta Tre territori Però Mi aspetto lì peggio Qui che ci dà Prestigio e Degraimento prestigio Per vent'anni Vai così Vai così L'umanizzazione All Our province 15 Quindi qua Il nome per esempio Qui è 17 buono Qui è 15 Qui è 24 Qui è 12 Qui è 14 Si può fare Si può fare Comunque ragazzi La nostra capa è ormai Un picco serpentene D'Italia Ci manche solo Bologna Per avere Le mie a Romagna Però Vediamo Perché la Bologna Andata con Papa State Ci vede arrivare E Entra Svizzera e Mantua E però Entra Svizzera e Mantua Non mi ha caso Sbrelli Quale possibile Forse che La I club suoli vicini E solo per i primi Vicini Forse non dura tanto Comunque Ragazzi Vediamo un po' come siamo O abbiamo anche riuscito Siamo Amici E Vigiana Che Sono tante alzate Sarà lunghissima Ma ci proveremo Entro Milano Non c'è più Genova Perfetto Soldi Se in demand L'Emilia Romagna E tutta la nostra E penso Anche la Lombardia Todo bien Qui sono Le novità Che sono sotto Ma iniziano a loro E Altra guerra Fatta A questo punto Davvero Mettiamo Guardiamo Nel 90 Così E lo stesso Perché Sanno 61 Però Sanno Anche Facendo un po' Di drilling Migliora la qualità E a questo punto Posso fare anche Una bella chiesa Qui 29 A Barman 18 Appaviglianti I soldi Qui E E più di chiese Cioè Vuol dimmi che Modena Barman Friano Non c'è delle chiese No Very good Very good Abbiamo anche Fatti il trader Qua Il mercato A Ferra C'è anche Già Modena E poi Sicilio Ogni volta E 44 Dal commercio Di Venezia Molto Ma molto Perché Siamo così Negativi Abonia Questa Che sta Poi Questa Ci sta Attenzione Il rule Of Milan Has died Without living And direct Their They will join In a union With Saluzzo Unless We contest It If we contest It will create A succession War of Milan Noi vado in guerra Con Saluzzo Speriamo che Non ci sia una guerra Disastrosa Sperando Forse non vedrà Dei lati potenti Propa state Che abbiamo appena Malmenato Di A Perfetto Con l'armi Che hanno già Firenze No Ci prendiamo Meno così E' bellissimo Ragazzi Abbiamo anche Cresso poi Su Sul Veneto Milano Entra pure in guerra Attenzione Scappa Mediamente Chiamiamo anche La Svizzera Ovviamente Ok Qua Papa Influence Noi siamo già Scappando Ma Uh Attacca Attenzione Ma tu stami qui Per favore Ma tu vai A aiutarli Come ho detto Ci da Milano Come vassallo Potrò prendere anche Come Ma troppo Come ci sono I Svizzero In azione Sono messa E io lo conquistavo Non potevo farlo Perché Mi dice Che qui Posso Che è la unione Ma questo mi costano Comunque Palma Vassal L'hanno già fatto War Rep Transpett 3 Power Soldi Ape Di automatico E 6 Coezione 7 In realtà Però dai Si può fa Si può fa Bene 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 E Milano In teoria L'abbiamo Quasi Quissato In teoria Perché L'abbiamo Ristrutto Abbiamo reso Anche Nostro Vassallo Però Penso che Non valga Perché dovrei Dentro Placca Rocker Ruler Posso farlo O poi Do Un po' Di soldi Minus E cala E Come si sviluppa Pino Parma Bassa Trust Award Parma C'è una Minus La relazione Con lei E basta Non faccio Niente Comunque Molto Be ragazzi Già In Neanche Trent'anni Si siano Resi Indipendenti Abbiamo Tutta la Romagna Manca Solo Ravenna Che però Eviterai C'è Una Tregua Una Colezza Che si dovrebbe Formare Qui In questa Regione Come Veneziaus Che sarebbe Già Un Grosso Brevo A noi Ma Abbiamo Milano C'abbiamo Tutta Lombardia Quasi Tutte Le Romagne Ci Venga Solo Ravenna E Abbiamo Andato Mantua Piccola Io vorrei Vassalizzare Se riuscire Un giorno Firenze Che Questa Facendo Bene Speriamo Che Menta Anche Se Niente Come L'Ungheria E La Svizzera Che Ci Avrebbe Amare La Folia Le Vogliono Come E Non Mi Dispiace Niente Come Len Leader Shock P1 Reconna Time Len In The Fire Prestigio Le E Niente Ragazzi In Praticca Tutto Tutto Il P1 È Stato Annesso Dalla Savoia Cioè Veramente È Una Cosa Assurda Che Intanto Può Capitare Che La Francia In Praticca Si Incaponesca Sull'Italia Ok Ragazzi Un momento Propizio Venezia È Sotto Attacco Degli Ottomani E Sono Messi Bloccati Qui Nella Lombardia Nella Pau Valley Entra Francia Che Occhiamo Perché C'è Aragona Entra La Svizzera Per Che Non Mi Rompa Le Scade Non C'è Confini E Firenze Noi Ci Pidiamo Ravenna Subitamente Noi Entrano Firenze Subito Ok Togli Improversione Con la Francia E Subit Si Vanno In Guerra È Il Momento Propizio È Il Momento Propizio Per Attaccarli Andiamo Stanno Scappando Non E Allora Ragazzi Direi Che Posso fare Questa Bella Pace Proprio Con Valencia Io Avevo Dei Piani Pigliarci Tarragona E Casejo Così Da Rilasciare La Castiglia E L'Andalusia E Valencia E Vede Crem Contro La Castiglia E Contro Aragona E Pugliarci Magari Cagli Perché Intesta Una Città Molto Ricca E Ma Anche Messina Non Messina Non ce la dà E in più C'è Dei Claim Per Sante Ok Niente Allora Abbiamo Queste Due Città Città War Transpett Power Non ce Dà Dacci I soldi Qualcos'altro Give a Claim A Napoli Non Non Può Vabbè Send Demand So Be Hit Ora Subito Andiamo Rilasciare Per C'è C'interesso Per Vede Corri In Futuro E potete Conquistare La Sardegna Magari Perché Lo vuoteremmo Non so Vediamo Allora Rilasciamo Non posso Che sono in Guerra Ok Sprengo che Qui Non ci sia Pobremi La question Come va Aiaiaia Genova Venezia Aragona Siena Urbino Se io tolgo Treviso Magari O andiamo Genova Aragona Venezia Siena Urbino Il problema Qual è Che Treviso Lavoro io Buona città C'è anche Un forte Mille belle L'opportunità Di entrare subito A Venezia C'è la carta Però Non posso Viviarle E Laostra Sicuramente La profetterà Io spero che Laostra Si occupi Di Piassi Friuli Zara Ma non penso C'è Vabbè Purtroppo L'aveva presa Città In Spagna Ci ha portato A questo Allora Bene così War Transpettere Power Soldi Vedete Come non c'è Send Man So Be It Perfetto Perfetto A questo punto Subitamente Andiamo A fare in modo Che i nostri Uomini Vadino in giro A Calmare le acque L'asso Vuole entrarci Con No Tu sei il mio nemico Mi spiace Più volte Ho provato E' stato amico Ma tu niente Venezia Non sono un rivale Vediamo quando due Era Venezia Non è un rivale E Come ho detto Rilasciamo Catalonia E rilasciamo Anche Valencia Abbiamo un problema Di vassalli Ma ora possiamo fare Il primo De la mobilità Che ci darebbe E due Le azioni In più Se abbiamo Dei vassalli E poi Rilasciamo Più due La terribile Sai Meno 10% Bene Così andiamo A 8 su 7 Può rilasciare Anche la Sardegna Ma a calire Me la tengo E se ho Problemi Di Controllo Potrei mandare Tranquilamente Qui Un'ammata Mercenaria Se è possibile Una piccola Esatto Con la Swissguard Ci costa 12 a 6 Ci costa Tanto Ok C'è la Freecompany Eh no Ci costa 2 però 17 18 Tu renda Se no Mettiamo Qui la Swissguard Si Mi controllo Quasi Dove Lì Tu mi Riduci L'inflazione Tu Tu abbassi I costi Per le nostre Armate Allora Guerra Velocissima Spoleto Già caduta Prima La Bassalizziamo Anche se Andremo Più 2 Disprese Diplomatiche Questo Minato Dovremo Netterla E Quando Ne sono Di 7% Scala Tra 5 Anni Quindi Possiamo Tranquilmente Aver Per adesso 1 Più 1 Quindi Basta Usiamo Spoleto E Basta Perfetto Sono Con Aragona E Genova Voi Tornate A casa Bene Urbini Invece Passerà A noi E ragazzi Il nostro Mino Si Espande Ora Genova E Aragona Abbiamo Anche Sire Venezia E Napoli Proprio Venezia Abbiamo Una Una Regua E Molto Debole Venezia Molto Debo Ma Sono Una Monoprovincia Mi Sia Solo Tetori Qui Neanche Proprio Venezia E' Finita Creta Purnipendente Ma Adesso Si C'è Andiamo Di sotto Venezia Qui Con Milano Che non Fa mai Male Coriamo Albino E Possiamo Fare Anche Guerra A Roma A Napoli Per esempio Napoli Con Calleato Ungheria Francia Aus Con i Più Più Grandi Mentre Il Palaco In Guitera E Aragona Sì Faccio Guerra Ora Per Per esempio Entrerebbe Entrambi Vabbiamo 35 E Deficiency Mentre Tanto Qui Tecnologia Comunitare Bene Siamo Un po' Il Dover Ola Che Ho Fatto Molte Idee Mentre Con Napoli C'è L'Ungheria Non Entrerebbe Che All'ata Nostra Ma Entrerebbe Francia Aus Francia Maledetta Francia Maledetta Tietatis Perché È un Buon Ma Parma Si Potente Capito Comunque In Questo Moment Noi Siamo A 227 E 42 C'è Con più 42 Tremono Ancora Troppo Bassi Penso Cioè Ci vorrà Davvero Prendere Tutte Tutte I Poi Manto Fare Quella All'Austria Mi Stanno Sempre Prendere A Fare Quella All'Austria Io Prendere Venezia Magari Vassalizzare Venezia Vrei Claim Che A Lei Venezia Claim Ovunque In Pensare Nel tempo Ci sono anche Quei navi Commerciali Prendere Commercio Venezia Io la Porrei Vassalizzare Sì Sì La Porrei Vassalizzare Ok Siamo In 108 L'altre Qua è finita Con Venezia Quindi Aragona Carissima Aragona O Un'altra La stessa Venezia Cobb Il gelante Che non C'è Nessuno Chiamiamo L'Ungheria Sì Dai Svizzera Mantua E Firenze Ho avuto Da Prendere Ma Posso Mi pare No La cosa è che Più Facciamo Questa Rispetto A Venezia Che c'ha I navi Quindi Ungheria Svizzera Mantua Firenze Ho avuto Da Prendere Barcellona Barcellonetta 3 2 1 Aspetta Venezia 3 2 1 Let's Go E parte La guerra E Gia Vediamo Se loro Ci cascano Non ci hanno Il rito di passare Su me Visto che C'hanno Il cuscino La personale La flotta Fiorentina La mia flotta Era qui Ai 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 Battiamo la francese Non ci crede O la veneziana Non ci posso credere Allora Come c'ha Tu stai qui Questa Tu torni a casa Poi nel frattempo Andiamo subito A attaccare Venezia Per favore Anche non ci sono navi E qui le metto Un generale C'è un Ammiraglio Il Fumagalli Disfruttiamo Venezia Con cui siamo Assubi Interferenze Pensa Siena E poi noi Ci butteremo Tutti su Dov'è Mi ha cattuto No Mi ha fatto di Genova Maledetti La paghetta è cara Aragonesi Come ce le mette In pace Ed è sbagliato Vabbè Ritorneremo Ritorneremo Non preoccupate Comunque No grazie Ok Siamo all'83% E direi di fare una cosa Allora Con Venezia Non riusciamo a vassalizzare Visto che potremo Prendere i territori Ma se lo prendo Il territorio Mi da Ah non mi da più Coalition Perché penso Piegarla per Avere i claim Avendo io i claim Permanenti Su tutta l'Italia Sui miei vicini Direi che questo Non mi serve Quindi prendo Venezia I soldi Non ho un diplomatico Ok Questo con gli alleati E Venezia Non c'è più Venezia è nostra Cioè là Siamo noi Il centro di commercio Di Venezia Mamma mia Tanta 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 roba Posso entrare già Un regno Amo ma Sivuple Nefrat Tempo Cioè già Stiamo rendendo Solo Venezia Immaginatevi Nel frattempo Qui Stiamo facendo La galera Valencia Ma io Vado a fare una pace Con la Catalonia Che mi dava Indietro questi Core Alla Catalonia Stessa Andiamo Andiamo Un poco Sì L'ultimo Vengono Soddisfatti Barcellona Non ce la dà Perché Ah 100% Ok Quindi Ci abbiamo Questi Teori Qui Sardegna Sardegna Calabria Messina Con la Sicilia Magari Rilasciare La Sicilia E Per questo punto Barcellona Vorremmo anche Lasciarla stare Lasciarla Questa Finanza Piccolina Come perché Non posso andare Più 91% E Quindi Più di questo Non può Stare Valenza Vorremmo Vedere la grossa Vediamo la cosa Valenza è un'ottima città Non lo so Vorremmo Magari Barcellona Qui Vediamo Perché Io vorrei evitare Che Si Si Pugliasse Questi Qui Ma In centro Qua c'è Sì Montagna Qui c'è Montagna No Sono qui Sono Oscar Oscar Cosa è importante Qui c'è Il palazzo Alla Feia Che è molto importante Per Mi sembra che Dava dei bonus Interessanti E Un po' di missionari Estran E Ashtet Mancors E Uno più Missionari Mentre Valenza È la città Che è Il centro Di commercio Qui c'è Il nodo di Valenza Parte da Valenza Io avrei Come si Valenza E Valenza E Venezia Sotto Il mio controllo Diretto Mentre avrei Grande influenza Sì Su Genova Che Su Quindi Stava cercare Della studiare Allora Sicuramente Rossiglione Girona E Orgesa E Buono Per Cercare di Connettere Lasciare Bacione Solo Dipendente Oscar Non ce la dà Cioè C'errebbe Ora Ah Spero Spero Perché Valenza In pratica È Infatti Non è Connessa Alla Terra Valenza Spero Che cade Valenza Vediamo Che succede Chi ci attacca Ma come vi permettete Dove andate Dove stanno andando Sì Ma dove vanno Venezia Venezia Il 3 aprile Quindi Tra un mese Io vado a Venezia Direttamente Ah Non posso Perché C'è l'Austria Che rompe le scatole Austria Dammi l'accesso Mi da mente Prima che ti picchio male Tu ne hai capito Ok Muy bien Andate qui Andate C'è il passaggio Ah Perché c'è la flotta Aragonese Qui Che rompe le scatole Non ci credo Non ci posso Vedere La flotta Ci blocca tutto Andate qui Nella Doctrine Galli Combattabiti Un classico Allora Succede un attimo Non c'è Non c'è nessuno Attenzione Li ho chiusi Qui Così posso Distruggere Quest'armata Corruption Ego Troppo Troppo In questo momento Abbiamo chiusi Perfetto Assunto Passiamo a Ducato No No Il regno Il regno di Parma E' nato Qui c'è la toglia Che le cose Devo Come perché Adesso Per Arrivare il Conorismo Ma L'ho fatto arrivare Bologna Prima Qui potrebbe Mettere Magari Non reggiorso Unity I I Trade Se è possibile Dove sta Cosa è trade Esatto Ok Venezia occupata Voi tornate a casa A Parma Qui Questo Cadrà Ok Siamo a 99 E ora Come avete accicciato Io prenderò anche Oscar Per Per la Catalogna Ok Quindi rimane Alla Castiglia All'Aragona Terra Grossa Barcellona Buona parte Sicilia E le isole di Mallorca Menorca Eh sì Però qui prendo di forte Che è buona Dipendere di loro Quindi Star Demand So Be Hit E ora La coalition Esattamente C'è Castiglia Austria Napoli Genova E Papato Quindi Uno Due C'è Cinque Stati Però Non c'è Oddio Possono fare una Correzione Quindi devo stare Attento Devo stare Molto Attento Aragona Ormai Non c'è più Qui Si aspetta L'idea Qui ci mettono Portogallo Che ci ha usato Ospirare Qui cosa c'è Adesso Qua Poi Local Trade Muy bien Sistemiamo un po' Di cose Sistemiamo un po' Di cose L'idea Ho detto No Questo Di qua Quanto No Aspetta Un attimo Qui possiamo Apparicare Venezia Prima c'è il corpo Facciamo tutto il resto Insomma ragazzi Adesso Diciamo che non sono Messi malvagi Ok Tanto Due attraggiati E uno alleato E devo dire Che adesso Nostra cara Parma Sta crescendo Abbastanza bene Attenzione Portogallo È il nostro obiettivo E possiamo Già prendere L'idea Embrace Embrace Si Ok Succede Castiglia Entra una coalizione Ok Come ci Immaginavamo Ma Attenzione Siamo diventando Una grande potenza No vabbè Non ci credo Siamo alla quinta Grande potenza Al mondo Qui Vuoi passare Già lo diamo Con l'Aos Penso Sì Perfetto La guerra con l'Aos Dimmi che Siamo in guerra con l'Aos E non con l'Ungheria Per favore Allora Ottman Con questo Shio Quindi sì Con Shio Penso sia con l'Ungheria Shio No con Genova Bene E l'Ungheria È lato con Napoli Mantua e Parma Quindi perché Non sono in guerra Ok Perfetto A questo punto Qui Cassia Vottogallo Vorrei mettere Austria Ma lasciamo Questo per il momento Cambiamo la dieta Che bello ragazzi Che bello La fatta non ci interessa Anche se N'espansion C'è Quanti Power Questi qua Ci debbbero Invece Meno di un debito Ci darebbe Cost Facciamo cost Minori Ah io c'è i debiti Vero Sì facciamo Se i debiti Va No Fate l'aggressive Sostate meglio Con questa Island Dai E allora ragazzi La nostra cara Parma Diventata In poco tempo Da Nona Grazie alle conquiste Su Aragona E alle L'avere abbracciato I coloni Diventata La quinta potenza Mondiale Con uno Sviluppo Che Ha con 5 Cioè Noi troviamo Altre con 5 punti In più E Non dico Prendere Francia 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 Però insomma Sottomingo Tu hai Cassia e Francia L'altra Melucchi Polacchi E inglesi E tanta roba Grazie al Colonialismo È stata una bella Botta Qui c'errebbe la Pressing Dove Fraticelli Eretici Ma Chi Ma Rimortacci Vos Ma che volete Riccina Truppe Quattro Andiamo a Milano Insomma Ragazzi Sono uscita A rendere Parma In poco Tempo Mantua Ci paga Quanto era Fanno ci pagare Di più 16 19 La società Entrambi Mi state No Ma Abbiamo Allora Siamo La quinta potenza Al mondo Contro Quasi tutti No D'Italia Abbiamo Anche Possibilità Di fare Quella Dopo All'Aos Che Sarà in difficoltà Dopo L'attacco Ottomano E anche Genoa Se vogliamo Si mette All'Aos Entrambi Colbilegiano Perché Genoa È l'Aos Solo di Austria E Napoli Laos All'Aos Di Napoli Genoa Luxemburgo Quindi Siamo Fai Guerra Entrambi Eliminare Magari Napoli Con i Fiorentini Siamo Fai Così Per esempio Qui Cora Tutto Abbiamo Anche Buona Parte Delle Itali Insomma L'Eiso Abbiamo La Sardegna Abbiamo Calabria Messina Calabria Messina Per poter Attaccare Napoli Per espandermi Anche qui Contro Fai Guerre Anche la Sicilia Contro Ragona Fai Guerre A Genoa Albenga Corsica Genoa Penso che Mi interagerebbe più Espandermi Dalla parte Di Venezia Perché Penso A me È il nodo Più Ricco Ducati Qua 25 No Genoa È il nodo Più Ricco Sono Un Centro Di Commercio Invece Con Attaccando L'Austria Si Ida Sempre Uno Avresti Più Potenza Ok Perché In pratica Questo È il mio Nodo Mai Però Sarebbe il fatto Che Genoa C'è un Porto Livello 3 Se non fosse Per la Toscana Serebbero Magari Ottenere La nostra Ma non Tremmo Farlo Però Diciamo Che Serebbe Una Bella Cosa Tecnicamente Siamo Molto Avanti Anzi L'O Abbiamo Comunismo Abbiamo Abbracciare Un po' Tutto Ma Siamo Avanti Abbiamo Ancora Tante cose Da fare Vediamo Se Anche Abbiamo Claim Infatti Abbiamo Cresso La Francia E Sull'Austria E Qui No Mi Dà Claim Ok Messo Solo Quei Claim Va Bene Poi Anche Un giorno Se Per esempio Potremmo Rilasciere No Abbiamo Anche Spoleto Che Abbiamo Molti Claim Io Potrei Fare Anche Guerra A Napoli Pensano Ci Entrano Tutti Impressionante Napoli È La più Amata Di Tutti I Territori È Incredibile In questo momento Se io Fosse Fare Guerra Qualcuno Dipo All'Austria Posso Fare Guerra E Potremmo Genova Sì Verrebbe La Francia Verrebbe Svizzera E Se faccio Guerra In questo Momento Sicuramente L'Austria Andrebbe Contro Di me Quindi Non è Fattibile Ma La nostra Parma Si è Formata Un Bellissimo Regno Che contro Ripeto I vecchi Veneziani E Milanesi Manca Poco Ma Venezia Ormai La vecchia Venezia Territoriale E Italiana Quasi Tutta Nostra Abbiamo La Sardegna Che Qui C'è Cairi Che Ha Il Bronzo E Il Carbone In seguito Parma Una città Tra le più sviluppate Penso 31 E Una città Che Più sviluppate Di Parma Roma 27 Napoli 26 Parigi 31 Come Noi Toledo 22 C'è No Sicuramente La Città Più Ricca Insieme A Quali Parigi 20 30 Praga 32 Praga E 32 L'unica Che Ci Poi Battere 34 C'è Anche 34 Insomma Però Insomma Siamo Lì Siamo Tra le Grandi Città A parte I Grandi Imperi Come Ottomani Ungheresi Sono Dei Regni Quasi Imperi Insomma Io Sono Diffico Rispetto a Loro Però Come Vedete Qua Mi è Cresciuta Militariamente Come Idee Abbiamo Presso Offensive Trade Offensive Per Un Punto Più Che Altro Di Disciplina Finale E Anche Land Force Limit Che Ci Mende Appunto Il Numero Massimo Di Soldati Visto Che Siamo Un Paese Non Intanto Militare Avere Un Land In Più C'è Anche Le Ideia Che Sono Queste Di Qua Dov'è Ah Qui Tra Questi Qua Tra Diffici Più Dieci E Nostre Trade Insomma No Bene Il Prostimo Adesso Prendere Un'idea Del Tipo Forse Amministrativa Per Vedere Le Riescondi Sui Advisor Che Interessante E O Additura Economiche Mentre Ancora Più Scricosamente Ricchi E Poi Magari Putere Altre Offensive Anche Navali Per poter Sfidare Le Varie Potenze Come Francia Spagna Direi Che Dopo Questa Guerra Con Castiglia La Lagona Possibilità Potrebbe Attaccare Genova E Austria Per Spannici In due Nodi Magari Prendere Genova La Città Oppure Prendere Genova Al Napoli Napoli Roma Spoleto E Nossi Questati Continuano la Guerra Anche Alla Castiglia Che Adesso È In Guerra Per Saragoza Vedete La Castiglia Che Mangia Quello Che Non Mi Ha Lasciato La Castiglia Che Per Inghilterra Potrebbero Come Alleati Se Metterò Francia Io arrivo Lì Giù Di Lì Salute A cui Non Mi Piaceva Inghilterra Non Si Ha Un bel Problema Ma Comunque Ragazzi Veniamo Qui Questa Spira Di Oggi Direi Una Spira Ampiamente Vinta Con Per Noi E Che Ha Sempre Delle Piccole Alleanze Qui Sempre Nel Game Milano Ha Piccole Alleanze Con Città Con Ducati Molto Piccoli Sempre Si Parte Forse Unico Manos In Questa Unico Leo In Stato Che Mineralmente È Più Importante Nell'Europa Ma Solamente Con Questa Parma Con Le Giuste Idee E Con Le Guerre Italiane Che C'è Un punto Di Prendevi Non In Genova Venezia Prendevi Anche Non In Valencia E Lasciare In Ultima La Francia Perché La Francia Difficile Poi L'Ungheria Se Ottuani Non Saprei Se Un Giorno L'Avest Potuto Sconfiggere Che Inizialmente Sono Sempre Delle Bestie Impossibili C'è La Sconfiggere Una cosa Era Magari L'Aggi Con Polonia Che Intanto Però Non Per Cosa Allianza Ce la dava E Con Lituà Insieme Insieme Anche All'Ungheria Una Grottura Si Poteva Fare Piaci Cor Di Venezia Per esempio Insomma Tanto Potremmo Fare Ma Di Sì Sì Ragazzi Questo È Tutto Con Il Prossime Guerre Con L'Anesso De Vassalli Potremmo Anche Stare Avanti Proprio In 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 Chieste Discussioni In Ulti Ricordo Anche Possibilità Di Abbonarvi A YouTube A Parare Maggio Pane Sovritti Le Vantaggi Da Qui Beggi Emoji Anche Se Abbonati E Quant'altro C'è C'è Possibilità Di Abbonarvi Tramite Twitch Infatti Sono Fai Live Su YouTube Non Spesso Ma Non c'è Un calendario C'è Una Voglia Di Fai Live Insieme A Voi Divertirmi Giocando Al Gioco Magari Anche Live Con Voi Che Intervenite Per Gli Abbonati Che C'è Possibilità Mi Piacere Tantissimo Comunque Ci vediamo Il prossimo Isolde Della Challenge Con Europe Nessera S4 Anzi Della Challenge In Nessera 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 Nessera